Ciao! Sì, ridi! Per due motivi. Uno, sono senza voce. Due, sono vestita da Babbo Natale come al solito, ma mi fa piacere farti sorridere e comunque sono qui per ricordarti che la settimana prossima, il 20 di dicembre, speriamo che mi torni la voce, farò il webinar di Natale, che non è da perdere perché ci saranno dei regali e ovviamente un sacco di cose nuove da imparare. Vi farò vedere come creare degli auguri animati con Adobe Express, ma anche dei trucchetti di Illustrator. Quindi segnatevi, mercoledì 18.30, 20 di dicembre, webinar di Natale e adesso devo stare zitta. Ciao!